Il comune di Tarcento dice no all'accoglienza di profughi ucraini, scoppia un caso nazionale, il sindaco chiarisce, le strutture non sono idonee. A Trieste una giovane mamma fugita dalla guerra, stremata da 5 giorni di viaggio per dei sensi, salvata dai medici di Cattinara. Al festival Monfalcone Geografie, tiene banco l'attualità, sgarbi, il mondo della cultura non può essere coinvolto nei conflitti, non si mette fino a una guerra scatenando altre guerre. L'istituto Cividalese si oppone all'Opa di Sparcasse, è nei fatti ostile, dice il CdA, riteniamo questa banca essenziale per il nostro territorio, non possiamo abdicare, la decisione sarà formalizzata dopo l'autorizzazione della Consob. Pioggia abbondante su tutta la regione, sollievo per l'agricoltura in crisi causa siccità, si è rivista anche la neve in montagna, un salto indietro nell'inverno che durerà almeno fino a venerdì. Il catalano ha le prese con un risentimento muscolare alla coscia destra, Perez continua a lavorare a parte, il 20 e 27 aprile verranno recuperate le gare con Salernitana e Fiorentina. Buonasera a tutti, bentrovati all'edizione serale in diretta del nostro telegiornale, capriamo con il riassunto della giornata per quanto riguarda la guerra in Ucraina, guerra che continua, non cessa dopo oltre un mese, nonostante si tenti di fare dei passi avanti per quanto riguarda i colloqui russo-ucraini, anche qui ci sono diverse letture, per esempio la Russia dice che i colloqui hanno subito un significativo progresso, un portavoce invece del Ministero della Difesa Ucraina ha detto che non c'è nessun ritiro dei russi su vasta scala nelle aree di Kiev e Chernihiv, ma solo movimenti limitati, il nemico ha ritirato le unità che hanno subito le perdite maggiori per rifornirli, ha reso noto, aggiungendo che l'assedio di Chernihiv continua come missili e colpi di artiglieria lanciati dalle forze russe. Intanto c'è stato l'atteso colloquio tra il Presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi e il Presidente russo Vladimir Putin, si è svolto nel pomeriggio ed è durato circa un'ora al centro del colloquio, c'è stato l'andamento del negoziato tra Russia e Ucraina, il Presidente Draghi ha sottolineato l'importanza di stabilire quanto prima un cessato il fuoco per proteggere la popolazione civile e sostenere lo sforzo negoziale, ha ribadito la disponibilità del governo italiano a contribuire al processo di pace in presenza di chiari segni di de-escalation da parte della Russia. Questi sono stati più o meno i contenuti della telefonata tra Draghi e Putin di positivo c'è, che comunque il dialogo continua anche tra i leader dell'Occidente e Putin e quindi piano piano speriamo che si possa arrivare ad una soluzione. Intanto continua il dramma umanitario, continuano a fuggire tante persone, sono 4 milioni rifugiati secondo l'ONU e anche nella nostra regione, si stanno organizzando tante iniziative di accoglienza e solidarietà, ve le stiamo raccontando giorno dopo giorno. Oggi però spicca un caso, quello di Tarcento che finisce sotto i riflettori nazionali per un no all'ospitalità che fa scalpore. Andiamo a capire meglio nel servizio di Davide Zanirato. Un no secco all'accoglienza dei profughi dell'Ucraina all'interno di una serie di alloggi comunali e la risposta fornita dalla giunta di Tarcento. La maggioranza di centrodestra ha infatti respinto due emozioni presentate dalle opposizioni, rappresentate sia dal centrosinistra che da Fratelli d'Italia, le quali hanno parlato di una vergogna senza precedenti. Quello che noi avevamo chiesto al Comune era solo di mettere a disposizione dei profughi nel momento del loro primissimo arrivo gli alloggi, che sono tre, che il Comune aveva messo in vendita e che al momento attuale non sono stati mai oggetto di una manifestazione di interesse da parte di alcuno. Quindi ci sembrava che fosse perfettamente in linea con lo spirito di un Comune medaglia d'oro al Valor Civile per l'aiuto che ha ricevuto al tempo del terremoto, quello di fare un piccolo segnale di solidarietà nei confronti di chi fugge dalle bombe e dalla guerra, piuttosto che rimanere sotto delle tende. Se c'è qualche piccolo lavoro da fare, credo che il volontariato e il terzo settore si sarebbero dati da fare, come in tanti luoghi, la protezione civile, gli alpini e tutte le associazioni avrebbero dato una mano. Da parte sua il Sindaco Mauro Steccati rispedisce al mittente le accuse definendole strumentali. I tralloggi in questione non sono arridati e non sono in condizioni tali da poter essere fruibili senza un preventivo intervento di sistemazione. Il Comune nel frattempo è in contatto con la Prefettura e sta fornendo la propria disponibilità. Attualmente sono 40 gli ucraini accolti nel Comune Friulano e ci sono parecchi posti letto a disposizione, anche grazie agli albergatori del territorio. E mentre molti altri comuni si continuano ad attivare, per l'accoglienza, da Trieste arriva la storia di Irina, una mamma ucraina giunta in Italia assieme con il piccolo figlio, dopo 5 giorni di viaggio in fuga dalle bombe. Raggiunti i parenti a Trieste ha perso però conoscenza, è caduta ed è andata in arresto cardiaco. Portata all'ospedale di Cattinara è stata salvata dopo intensive cure. A raccontare la storia il dottor Gianfranco Sinagra, direttore del Dipartimento Cardiovascolare. Ai suoi salvatori la donna ha lasciato un messaggio. Sono viva per miracolo e i miei angeli custodi sono i medici di questo ospedale. Bella questa storia che arriva da Trieste. Continuiamo però con le polemiche legate all'accoglienza. Avete sentito quella relativa al Comune di Tarcento. Ci sono altri sindaci, quelli della bassa che non sono d'accordo con l'accentramento del servizio tamponi e del lab per i rifugiati che appunto fino a oggi c'è stato a Palmanova con la Croce Rossa. Tutto questo verrà trasferito a Udine, all'ente Fiera. Perché non sono d'accordo? Perché comunicato sottoscritto dai sindaci di tutta la bassa perché dicono che forniva un servizio importante il centro di accoglienza di Palmanova e che ora gli ucraini accolti in regione sono costretti ad andare tutti a Udine. Scrivono, il centro forniva un servizio per tutta la bassa friulana. Gli spostamenti di queste persone, già in difficoltà per essere fuggite dal proprio paese, sono difficoltosi. A questo si aggiunge il rispetto delle norme anti-covid difficili da rispettare durante le fasi di trasporto verso Udine. Il trasporto con l'utilizzo di automezzi dei comuni di potenziali ospiti positivi al covid è da disincentivare. Lo screening fatto fino ad oggi con i tamponi eseguiti dalla Croce Rossa di Palmanova era la scelta più mirata per prevenire la diffusione. La Croce Rossa li sapeva gestire con professionalità ma anche con la giusta cura e umanità. È il loro compito istituzionale sancito dallo statuto e affidato loro dalle convenzioni di Ginevra. I sindaci fanno anche sapere che fino a qui sono stati realizzati dalla Croce Rossa di Palmanova 135 tamponi e accolti da un punto di vista sociosanitario 150 cittadini ucraini di cui 76 minori. Tutto questo si trasferirà e sarà centrato come detto all'ente fiera di Udine. Inevitabile che le storie dell'Ucraina e l'attualità entrino prepotentemente in tutti gli eventi in questi giorni ed è così anche al festival al festival Monfalcone Geografie. È così Francesca Santoro? Buonasera. Buonasera Giorgia. È proprio così. In questo momento sta terminando la sua prolusione ed inaugurazione del festival Geografie Vittorio Sgarbi. Vittorio Sgarbi che come sappiamo spazia tra mille argomenti. Avrebbe dovuto parlare solo di Raffaello. In realtà ha fatto una lunghissima introduzione parlando dei motivi per cui la geografia è importante ma anche parlando del conflitto in Ucraina, parlando di mille altre cose di attualità. In particolare lui ha detto che non si può spegnere il fuoco con il fuoco. Vediamo cosa ci ha raccontato nell'intervista che ci ha rilasciato. La geografia e l'arte hanno rapporti molto stretti. Volevo parlare del nesso fra geografia e arte anche di Raffaello. Però in realtà forse perché sono persona nota e il mio libro è un libro sul più grande pittore italiano. Non ho pensato che il festival avesse un richiamo particolare mettendo Raffaello come riferimento. Infatti parlerò di quello. Però potevo parlare tranquillamente anche di arte e geografia, cosa che in parte farò all'inizio. E quindi mi pare una bella idea per questo festival in un punto così nevralgico. Siamo al confine con la guerra, quindi un posto perfetto per scappare. Lei si è già espresso nei giorni scorsi sulla questione arte russa. A Udine c'è stata una diatriba con la mostra di Don Alessio Geretti. Ha dovuto restituire dei quadri richiesti dalla Russia a sostituirli con altri. Non so se poi questo sia reale perché dopo la prima richiesta di Pietrovski del Hermitage loro stessi hanno ripensato che forse non era opportuno restituirle. Tant'è che a Rovigo ci sono le opere di Kandinsky, a Milano quelle del Hermitage e quindi probabilmente anche Don Alessio forse non le avrà restituite. In quel momento ci fu quella richiesta che era sbagliata come è sbagliato in generale fare un'identificazione fra un governo e il suo popolo. Cioè dire se io voglio cacciare il sindaco di Monfalcone anche in maniera violenta non è che bombarda una casa in periferia in cui abitano due che sono lì. Quindi bombardare un luogo per cacciare un governo è un errore grave e anche questa criminalizzazione dell'arte russa, della musica russa, del direttore russo è una stupidaggine che rende bellico anche quello che non lo è. Lei parlerà anche di questo nel suo intervento? Sì adesso dipende dall'umore e oggi sono di pessimo umore ma adesso quasi meglio. Che ieri mi hanno fatto andare su una macchinetta senza finestrini quindi mi sono mal di gola. Insomma però cercherò di cavarmela. Questa quindi la posizione di Vittorio Sgarbi in merito alla questione dell'arte russa. Peraltro nel suo intervento il critico d'arte ha rivolto delle freccettine anche al governatore Fedriga in merito alle sue dichiarazioni sulla distinzione di trattamento tra i profughi ucraini e i migranti che provengono da altre regioni del mondo. Noi stiamo attendendo appunto che finisca questa prolusione per riuscire a intercettare il governatore Fedriga nel caso Giorgia ti richiederò la linea. Sì perché eravamo preoccupati per il cattivo umore di Sgarbi quindi insomma ci confermi che invece è proseguito insomma. Esattamente proseguito e anzi non sembra assolutamente di cattivo umore anzi ha parlato di moltissime cose in realtà ha lancato delle freccettine anche al sindaco Cisint e ha detto perché questo incontro non si svolge a teatro il teatro per caso è stato bombardato per quale motivo bisogna non utilizzare i luoghi della cultura di cui tutte le regioni italiane sono ricche e si utilizzano invece questi stand, queste enorme costruzioni di plastica nelle piazze quindi ne ha avuto veramente un po' per tutti. Perfetto va bene, torneremo da te Francesca se ci sarà occasione di sentire live anche Fedriga. Ora occupiamoci dei temi dell'economia perché c'è un colpo di scena nella vicenda Civibank per il CDA l'OPA di sparcasse è nei fatti ostile, è netto il giudizio contrario all'offerta pubblica di acquisto che da Bolzano hanno lanciato verso l'Istituto Cividalese. Sentiamo. Consideriamo l'OPA di sparcasse nei fatti ostile, non possiamo abdicare ad avere una banca radicata nel nostro territorio e regalare ad altri il valore futuro dell'Istituto senza alcun beneficio. A parlare oggi la Presidente di Civibank, Michela Del Piero, dando voce al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto di Credito Cividalese che ha così bocciato la decisione della Cassa di risparmio di Bolzano S.P.A. assunta a dicembre di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria per la totalità delle azioni ordinarie della banca e un'OPA per la totalità dei warrant denominati Warrant Banca di Cividale 2021-2024. La formalizzazione della decisione del CDA di Civibank avverrà ai sensi di legge dopo l'autorizzazione da parte della Consob anticipato Del Piero. Ci abbiamo messo molto tempo ad esprimere questo parere, ha continuato in quanto Sparcasse era un partner che avevamo scelto per un progetto condiviso di banca del Nord-Est. Il partner invece ha cambiato idea facendo un'operazione, l'OPA, che per la sua stessa definizione è ostile a specificato Del Piero. Riteniamo che questa banca sia essenziale per il nostro territorio, l'ultimo luogo in cui si può decidere l'economia e la finanza di una regione, che tra l'altro è a statuto speciale. Per capire chi la spunterà tra le due cordate occorrerà attendere l'Assemblea dei Soci, che è in programma in prima convocazione il 29 aprile e in seconda il 25 maggio. Sarà lì che ci si misurerà anche sulla proposta di Bolzano. Al momento la Sparcasse ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea la prima delle autorizzazioni preventive necessarie per l'approvazione da parte di Consob, che si pronuncerà tra cinque giorni, della OPA. Le azioni, oggetto degli impegni di adesione, rappresentano ad oggi il 31% del capitale sociale della Banca Cividalese. Tutto confermato. Scatta venerdì l'aumento dello sconto regionale sul prezzo del carburante. La misura è stata approvata in via definitiva dopo il via libera in sede di Quarta Commissione. Assessore Scocci Marro, da venerdì 1 aprile fare la benzina in Friuli Venezia Giulia costerà meno che in Slovenia. Avete applicato il massimo sconto possibile? Sì, il massimo sconto possibile che sommato allo sconto statale renderanno possibile uno sconto alla pompa dal 1 aprile inferiore al prezzo di Slovenia. Quindi un prezzo inferiore mediamente a 1,50 euro, in certi casi a 1,40 euro. Per le macchine ibride addirittura facendo una stima, ieri alcuni distributtori avrebbero potuto venderlo a 1,36 euro, quindi in zona 1 naturalmente. Poi nella zona 2 abbiamo uno sconto leggermente inferiore e comunque molto competitivo da rendere ormai sconveniente fare il turismo del pieno. Un vantaggio per la nostra regione dove CISE e IVA resteranno da noi e potremo vedere di continuare questo contributo anche in futuro. Evitiamo il turismo del pieno anche per un fattore ambientale, si evita di fare andate e ritorno e quindi inquinare con la propria vettura. La regione fa uno sforzo, però lei chiede anche agli altri soggetti in campo di farne un altro. Sì, oltre allo Stato e alla regione ho chiesto anche alle compagnie petrolifere. C'era anche una polemica fra il Ministro Cingolani e loro, nel senso che non capiva questi aumenti a dire del Ministro ingiustificati, c'è la Commissione Antitrust che sta vedendo, ma io auspico che come un anno e mezzo fa le compagnie petrolifere avessero fatto un piccolo sconto ulteriore al nostro, lo faccio anche questa volta. Staremo a vedere. Andiamo a preda mano ora, perché c'è un cambio di gestione per il supermercato del centro commerciale che si chiamava Bennett, ma di fatto sono scomparse le insegne Bennett. E allora abbiamo fatto il punto sul settore della grande distribuzione alimentare in regione con il segretario regionale della FISA SCAT CISL. Sentiamo il servizio. Sbarca in Friuli Venezia Giulia un nuovo marchio della grande distribuzione organizzata alimentare Iper Tosano, realtà veneta del gruppo VG che da giugno gestirà il supermercato del centro commerciale di Pradamano. È in corso in questi giorni la rimozione delle insegne Bennett. Il supermercato è chiuso da qualche giorno, aperti invece tutti i negozi della galleria del centro commerciale. Per i circa 100 dipendenti del supermercato è previsto il passaggio diretto alla nuova proprietà. Abbiamo fatto un incontro, un esame congiunto il 31 gennaio dove abbiamo fatto un passaggio da Bennett al nuovo marchio che è subentra in regione Iper Tosano. Apertura del punto vendita nella prima settimana di giugno. C'è una fase di riorganizzazione all'interno del punto vendita dove i lavoratori saranno impegnati a ristrutturare il punto vendita e per quelli che lo vorranno c'è la possibilità anche di andare a fare un po' di affiancamento a quello che è il punto vendita più vicino del gruppo. Bennett ha anche due altri supermercati in regione a bronchi dei regionari a Saci. Avete notizie sulle intenzioni del gruppo per quanto riguarda queste due realtà? Per quanto riguarda gli altri due punti vendita del marchio Bennett in qualche modo durante la fase di incontro ci hanno detto che si stanno riorganizzando a livello logistico. Nulla esclude che nel futuro, nel breve insomma ci sia qualche novità anche riguardo questi punti vendita. Il nuovo supermercato avrà solo l'area alimentare quindi niente elettrodomestici o tecnologia. Un ritorno al passato che sta caratterizzando molte aree commerciali in una regione con la più alta densità pro capite di superficie di vendita in Italia. Stiamo assistendo sempre più a un ritorno ai negozi di prossimità diciamo a scapito di queste grandi catene che in qualche modo stanno venendo meno forse per paura che la gente anche possa in qualche modo entrare e contagiarsi. A proposito di contagiarsi andiamo a vedere come è andata nelle ultime 24 ore in regione per quanto riguarda i contagi da Covid-19 che continuano a rimanere piuttosto alti sopra quota 1000. Sono 1159 nelle ultime 24 ore i nuovi positivi. Salgono anche di due le terapie intensive che raggiungono quota 9 mentre scendono di due pazienti i ricoveri nei reparti ordinari causa Covid. Sono 130 in regione. Crescono ancora, fanno un bel valso in avanti, le persone in isolamento che superano le 23.500 unità e purtroppo sale anche il numero dei decessi, lo vedete, 5 nella giornata di oggi con il totale che si avvicina di giorno in giorno a quota 5000. Questa è la situazione di oggi in regione. Restiamo in tema sanità. La mancanza di personale, le difficoltà del pronto soccorso di Latisana e altre carenze organizzative del sistema sanitario sono state al centro delle interrogazioni a risposta immediata rivolte al vice governatore Riccardi nell'ambito del Consiglio regionale. Sentiamo. Nel 2022 aumenterà di 1079 unità la dotazione di personale sanitario in Friuli Venezia Giulia grazie a soggetti che saranno stabilizzati e prorogati dalle aziende regionali. Lo ha evidenziato il vice governatore Riccardo Riccardi davanti al Consiglio regionale nel corso delle interrogazioni e risposta immediata. Un dato fornito su sollecitazione del pentastellato Andrea Usai, che nel richiedere un piano straordinario di assunzioni trasparente e lungimirante, ha anche segnalato la carenza di personale. In risposta a Simona Liguori dei Cittadini, che ha in particolare segnalato le 26 richieste di mobilità da parte di personale del pronto soccorso di Latisana, Riccardi ha risposto che sono stati individuati i percorsi di reclutamento e che tramite Asuf sono state proposte attività per migliorare le condizioni operative. Su input di Furions di Open Sinistra FWG, il vice governatore ha chiarito che nell'ambito di Asugi si sta andando verso un'unica struttura complessa di riabilitazione, che continuerà a esercitare nei quattro poli, mantenendo però intatte le singole identità. Anche per gli ambulatori diabetologici di Spilimbergo e Magnago, tema sollevato dalla DEM Chiara Dajau, è stato assicurato un intervento riorganizzativo, che si concluderà entro maggio. Asuf, peraltro, ha deciso il potenziamento del servizio di emergenza e soccorso Sappada, dove nel di primo aprile sarà attivata nelle ore notturne un'ambulanza di soccorso avanzato, grazie alla collaborazione con la Svep Servizio Volontari Emergenze. Sarà così coperto non solo il territorio di Sappada, ma anche quello di Fornia Voltri. Alla prova del Covid, la giustizia amministrativa del Friuli Venezia Giulia ha saputo rispondere al meglio, annullando gli arretrati, riducendo i tempi dei ricorsi e misurandosi per prima sugli obblighi vaccinali. Il quadro è emerso oggi in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Tar. Si annullano gli arretrati, aumentano le cause e la risposta media per la fissazione dei ricorsi si aggira sui 180 giorni. Tra i diversi ambiti in cui ci si è misurati per la prima volta invece quelli relativi agli obblighi vaccinali, mentre la nuova sfida riguarderà il PNRR e l'aumento dei contenziosi, che va di pari passo con la ripresa economica. Eccola la fotografia tracciata rispetto al 2021 in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, presieduto da Oria Sette Soldi. Nell'ultimo anno sono stati depositati 488 ricorsi, di questi 397 sono stati decisi lo stesso anno con una percentuale superiore a quella dei ricorsi depositati e definiti nel 2020. Il Tribunale ha adottato 627 tra sentenze, sentenze brevi, ordinanze e decreti sia cautelari che collegiali e presidenziali. Il 56% dei ricorsi è stato accompagnato da istanze cautelari. In merito alla materia degli appalti, la Presidente ha posto l'accento sulla necessità di riordino e semplificazione della disciplina, anche con riferimento alle nuove e più moderne forme di realizzazione delle opere pubbliche, quali il project financing. La Presidente ha infine sottolineato l'obiettivo di efficienza e la necessità dell'intero sistema della giustizia amministrativa di inventarsi un nuovo modo di rendere il proprio servizio. Tra i casi più importanti dello scorso anno ci sono quelli correlati al Covid, con i ricorsi dei sanitari che non volevano sottoporsi all'obbligo della vaccinazione. Siamo stati i primi in Italia e il Consiglio di Stato ha confermato le nostre sentenze, ha specificato la Presidente. Infine, il problema degli organici, con la speranza che grazie alla ripresa dei concorsi si riesca al più presto a colmare le carenze sia di magistrati amministrativi che del personale di segreteria. Ed ora la cronaca con il riassunto dei principali fatti di giornata nelle nostre Flash News. 9 persone sono riuscite a mettersi in salvo dopo che nel residence in cui alloggiavano è divampato un incendio causando danni agente alla struttura. È successo all'alba di oggi a Tarvisio, in via Stella, a Camporosso. Secondo una ricostruzione, il fuoco ha interessato un locale situato al piano terra, mentre gli alloggi soprastanti sono stati invasi dal fumo. Sul posto hanno lavorato per ore diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile che conta in totale 15 appartamenti. I danni risultano ingenti poiché parte della struttura è in legno. Gli sfollati sono stati visitati dal personale sanitario di un'ambulanza, ma non è stato necessario procedere a ricovero in ospedale. Arriva la Trieste una nuova tragica storia di solitudine. Ieri mattina i funzionari dell'Inps hanno suonato alla porta di un appartamento senza ricevere alcuna risposta. Insospettiti hanno allertato i soccorsi e assieme ai sanitari e alla polizia locale sono entrati nell'appartamento in centro città in uno stabile occupato principalmente da uffici. All'interno c'erano il cadavere mummificato di una donna classe 1933 e lo assuogato senza vita. Secondo i rilievi la donna sarebbe morta diversi anni fa. Il corpo infatti era ormai irriconoscibile. Nel sopralluogo all'interno dell'appartamento sono stati trovate alcuni prodotti alimentari scaduti nel 2018, uno dei pochi elementi che consentono di far risalire a una orientativa data della morte. La comunità di Nimis è in lutto per la scomparsa dell'ex sindaco Walter Tosolini classe 1943, primo cittadino tra il 2011 e il 2016 e precedentemente anche direttore della comunità montana del Natisone. Era molto amato dei suoi concittadini che hanno potuto apprezzarne il grande impegno per l'intera comunità. Tosolini era da tempo malato e negli ultimi due mesi le sue condizioni si erano aggravate fino alla morte avvenuta nel pomeriggio di ieri. I funerali si svolgeranno giovedì 31 marzo alle ore 17 nel Duomo di Nimis. Raffica di perquisizione e sequestro in tutto il nord Italia nell'ambito di un'operazione dei carabinieri forestali di Treviso riguardante presunte attività legate al traffico illecito di rifiuti e alla gestione di rifiuti non autorizzati. Sono 45 le persone indagate, tutti i titolari o legali rappresentanti di ditte che in gran parte gestiscono rottami ferrosi. In Friuli Venezia Giulia le province interessate dalle perquisizioni sono state quelle di Udine e Pordenone. È stata denunciata una donna residente a San Giovanni al Natisone. Secondo quanto si è appreso c'era chi gestiva i rifiuti prendendoli in carico, trattandoli e rivendendoli senza averne le autorizzazioni e chi invece conferiva consapevolmente o meno il materiale a società che non avevano appunto l'autorizzazione per farlo. Il mondo dell'agricoltura l'ha attesa per tanto tempo ed oggi finalmente è arrivata la pioggia e con la pioggia anche un piccolo tuffo all'indietro nell'inverno. Sentiamo. In condizioni vediamo un punto in cambiamento. Dopo 45 giorni praticamente di assenza di precipitazioni significative, una depressione dall'Atlantico fa fluire ulteriormente correnti da sud-ovest più sostenute, un po' più umide e quindi nella giornata di giovedì le piogge diventeranno più abbondanti, localmente anche intense sulle zone orientali. Più pioggia domani sulla bassa pianura è verso l'Isontino e un po' meno invece verso il Pordenonese, questo almeno per gran parte della giornata. La neve domani scenderà più abbondante a partire dai 1200-1400 metri di quota. Neve che continuerà ad arrivare anche poi nella giornata di venerdì, anche intorno ai 1000 metri, quindi scenderà ulteriormente appunto la quota visto l'arrivo di aria un po' più fresca. Venerdì sarà una giornata più instabile, quindi avremo probabilmente delle schiarite, ma anche dei rovesci e forse anche qualche temporale. Dopo tanti giorni di assenza di pioggia c'è sempre il timore e la paura che ci siano degli eventi estremi, non è questo il caso? No, 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 questo episodio seppur lungo e perché durerà alcuni giorni ci porterà comunque dei cumulati di piogge che sono assolutamente normali per la nostra regione. Saranno intorno ai 50-60 mm sulle zone orientali, sui 40-50 su quelle occidentali, quindi tutto sommato una buona quantità di pioggia non risolve decisamente tutta la carenza che abbiamo avuto nei mesi scorsi, ma tutto sommato adesso entriamo nel mese di aprile che è un mese tradizionalmente caratterizzato da più instabilità e anche da piogge magari contemporanei, rovesci, quindi la tendenza poi a medio e lungo termine è quella che ci saranno altri fronti, altre perturbazioni, quindi dovremmo avere insomma praticamente risolto un po' il problema della carenza di pioggia. Tra poco le notizie sportive e andiamo da Alessandro Surza per una breve anticipazione, buonasera Alessandro. Sì, ciao Giorgia, una telegiornale che avrà molte curiosità da svelare perché c'è la notizia di un Gerard de Lofeu in allarme, che tiene l'Udinese in allarme, sarà questa la notizia di apertura, poi però parleremo anche di Pordenone, di Cambiaghi che ritorna dalla Nazionale Under 21 e anche di Mancini che insomma ha chiuso ieri questo capitolo della Nazionale in questa sosta negativa per gli azzurri, quindi qua a tra poco. Grazie Alessandro Surza, arriveremo tra pochissimo da te, andiamo a vedere cosa ci aspetta in prima serata su Udinese TV, questo è l'appuntamento del mercoledì, la terza puntata di Prime donne, questa sera protagonista, una prima donna dell'economia, Chiara Mio, presidente di Credit Agricol Friuladria. Ci fermiamo qui, vi ringraziamo per averci seguito, la linea al meteo e poi TG Sport. Buona serata.